Violento tamponamento di prima mattina in viale della stazione a Sulmona che ha coinvolto una Panda e un Alfa 147 ma fortunatamente i conducenti sono usciti illesi. L'incidente stradale risale intorno alle 8.45 e sul posto si è reso necessario l'intervento della polizia di Sulmona per rilievi diritto e per accertare eventuali responsabilità. Fra le cause del tamponamento incidente potrebbe esserci una distrazione di uno dei due conducenti o piuttosto la velocità, ma la dinamica del sinistro è al baglio degli inquirenti. Per i conducenti delle due auto, un operaio e una donna entrambi di Sulmona, solo tanta paura e qualche scatto di nervi ai fini della responsabilità. Entrambi però sono usciti illesi, tant'è che non c'è stato bisogno del trasferimento presso il locale Nosocomio. Ad accertare le buone condizioni dei due conducenti è stato il personale a bordo di un'ambulanza della Croce Rossa che è intervenuta regolarmente sul posto. Sul manto stradale erano presenti ancora i resti di una delle due autovetture, segno che l'impatto poi non è stato così leggero. La scena, avvenuta in una zona particolarmente trafficata, non è passata inosservata.